Stefano, oggi in conferenza stampa si parla del rendiconto di assessori e consiglieri della Lega. Qual è la situazione? Beh sì, noi abbiamo avuto tutta una serie di presentazioni dei candidati nuovi che per la prima volta affrontano queste elezioni in quota Lega. Oggi, appena entrati nel vivo della campagna elettorale, invece facciamo il rendiconto di quelli che i consiglieri e gli assessori della Lega hanno prodotto in questi anni. E credo che sia un rendiconto lusinghiero di cui io personalmente vado fiero perché è un lavoro che ci ritroveremo anche nella nuova legislatura, soprattutto per quanto concerne le grandi opere pubbliche. Mi riferisco in particolar modo al rifacimento di Piazza San Giustino, al raddoppio del terminal del parcheggio del Gran Sasso e tanto altro ancora. Così come per quanto riguarda gli altri settori, in particolar modo penso alle politiche sociali, alle politiche ambienti dell'ecologia, quando soprattutto nel momento del lockdown si è garantita l'assistenza attraverso Chiedi Solidale e il servizio di accolto attraverso appunto il suo stato competente, nel momento in cui c'era una grande emergenza, quella del coronavirus. Di questo tutti ne hanno parlato come efficienza e capacità di dare risposte, così come efficienza e capacità di risposte si sono verificati anche per quelle iniziative. Penso a quelle in particolar modo per il mondo degli animali che sono stati messi in piedi dal consigliere Di Paolo e dall'assessore Bevilacqua riguardante la programmazione di un cimitero di remera di affezione e tutta una serie di interventi per la politica degli amici dell'uomo che a Chiedi in particolar modo sono particolarmente amati.